Rita, la nostra maestra d'asilo, che emozione hai in questo momento? Il cuore batte, sono molto felice di farlo. Sei molto felice? Sì. Senti, io ho una cosa da farti vedere. Sì. La avviciniamo un po'. Ciao Rita! Oggi rivederti in televisione, per me, per noi, per me, è una gioia immensa, grande. E come a vecchi tempi ti dico, sei brava, sei brava come allora. Lui è un mio po' grande. Ti ringrazio, sì. Ciao, ciao, ciao. Anche la mia mamma. Metticela tutta, nonna. Nora. Sono quattro generazioni a confronto. Sì. Loro erano, sono i tuoi genitori. Sono i miei genitori. 96 anni mio papà e 95 la mamma, e vivono insieme sempre. E poi i tuoi nipotini, quanti nipotini hai? Ne ho due. Saranno tutti lì a guardarti, naturalmente. Penso proprio di sì. Forza. Grazie. Andiamo, andiamo. Ok. È entrata. Sì. Una donna. Una donna. I tacchi. I tacchi. I tacchi. Sì, sì, i tacchi. I tacchi. O è la clerici? Sono come tu mi vuoi. Ti amo come non ho amato mai. Io sono la sola che possa capire tutto quello che c'è da capire in te. Forse se tu baciassi me, forse se tu baciassi me, forse capiresti meglio che, che sono la sola che tu possa amare. Non lo vedi che non lo vedi. Non lo vedi che sono a due passi da te. Non lo vedi che sono a due passi da te. Ma non lo vedi che sono a due passi da te. Non lo vedi che sono la sola che ho amato mai. Come tu mi vuoi Come tu mi vuoi Come tu mi vuoi Brava! Grazie Eccoci qua Ciao, come ti chiami? Rita Mammolotti Ciao Rita Devo dire la verità, sentendo la voce Sembra che ha cantato un'altra Rispetto alla fisicità che hai Sì Di dove sei? Sono di Siena, sono nata a Siena E però abito da tanto tempo a Roma Che lavoro fai? Ho fatto l'insegnante di scuola materna Ah che bello Che bello avere a che fare con i bambini Bellissimo Come questa sera, vedi qua siamo tutti Tutti bambini Cinque bambini Io faccio il neonato Beh ma chi canta non invecchia mai Sei il neonato che hanno lasciato in mezzo alla strada Che bello ma Questa è la mia culla Guarda che Jasmine Quindi ancora non ha da nascere Quindi se tu sei neonato Jasmine ancora deve nascere Albano Come vai? Io ti stavo ascoltando con molto interesse E mi ero collato sull'idea che tu fossi la sorella di Mina Non avrei mai immaginato che mia figlia scacciasse per prima Perché lei è tutta basata sul rap, trap, troppe, trick e tac Ma che è trick e track? Si chiama rap Non è che... Non farlo chiamare come voglio io Tu chiamalo come vuoi Questo si chiama democrazia Quindi complimenti per la voce Complimenti per tutto Grazie Io sono pienamente d'accordo con il maestro Albano E mi ha dato una grande emozione Quindi la mia mano è andata da sola E ha premuto Grazie tanto Complimenti Io sono felice Ho già vinto Sono felice Soredà Ci sono anch'io Grazie Ce l'hai? Eh sì Ci sono anch'io Bella E il tuo movimento di Anca mi ha coinvolto Quindi vieni da me Vedi ce l'ho scritto anche qua Adesso hai tre possibilità Ci sono tre team che vogliono te nella squadra Quindi tu dovresti scegliere con quale team collaborare Quindi con il team dei Carrisi Con quello di Clementino Con quello di Loredana Ognuno ti farà delle offerte Albano cosa offri? Io direi che se tu vuoi un futuro pieno di sorrisi Vieni dai Carrisi Sì, non ci fa una piega Io mi sono voluta girare subito Perché non è il mio genere Però hai una grinta pazzesca Quindi Sì, grazie Ciao a noi Ti aspettiamo Grazie, bellissima Io ti posso offrire Se vieni nel team Clementino Una villa che ho a Roma dolgiata Cominciare a venderti le cose che non sono due Grazie Io ti posso offrire Tutta la mia esperienza Perché tu possa essere convinta e felice Di poter lavorare con me Perché io ho in mente una strada precisa Che voglio sfruttare in questo programma Perché tu hai una voce, un colore che mi ha colpito molto E mi piaci tantissimo Quindi sono qua per te Hai l'imbarazzo della scelta Hai l'imbarazzo della scelta Allora io posso dire una cosa Che sia Loredana Che è stupenda Io l'ho sempre seguita E mi piace Che Clementino Anche Gigi Grazie Perché no Grazie Non ti sei girato ma mi piace tantissimo Grazie Io però mi ero fatta un'idea iniziale E speravo proprio che si girasse Albano Quindi io sarei per lui Bene Brava Benvenuto Grazie Benvenuto Hai fatto il bingo Grazie 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 Grazie